Buongiorno a tutti, buongiorno venerdì 22 marzo 2024, buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa, l'appuntamento oggi in diretta alle 13 con Vincenzo e con Friday I'm In Live dove parleremo di tante cose, parleremo anche della nazionale, tra poco vedremo come è andata ieri sera l'amichevole con il Venezuela, nel frattempo vi ricordo il numero di telefono per i vostri vocali whatsapp che è 366 111 2964 e la possibilità che avete di mettere un like a questo video e sostenere il canale, grazie a tutti. Dunque, sbatti il mostro in prima pagina, nazionale, mercato, pioli resta, megnan se ne va, questa è la sintesi della rassegna stampa di oggi, perché sbatti il mostro in prima pagina? Perché la gazzetta dello sport decide di aprire con Acerbi l'uomo nero del momento, Acerbi a giudizio si gioca l'Inter, poi c'è la nazionale con Retegui, l'Italia va, doppietta col Venezuela, una delle pochissime notte liete della partita di ieri, avrete la possibilità di vedere il mio video, commento a riguardo, tanta fatica ma il centroavanti ci fa sperare ed è 2-1 per gli azzurri e poi come vi dicevo, Pioli vuole tenersi in Milan, Pioli si rafforza, basta la Champions per tenersi in Milan, la conferma è più vicina, quindi prima era bisogna vincere l'Europa League, poi era bisogna vincere l'Europa League e il derby, poi no bisogna vincere l'Europa League che adesso secondo i giornali basta il quarto posto o quinto addirittura, quindi Pioli si rafforza, dall'altra parte invece la Juventus, anche la Juventus dall'altra parte vuole rafforzarsi, vuole farlo attraverso il mercato, con Miners e Juve muoviti a Visar Atalanta, dice voglia andarmene, dichiara conclusa la sua esperienza a Bergamo, occhio a Liverpool all'estero, piace molto naturalmente il centrocampista olandese dell'Atalanta. Buone notizie per quel che riguarda il Milan dalle nazionali perché Leao segna nella vittoriosa amichevole contro la Svezia del Portogallo, il Corriere dello Sport dice c'è solo Retegui, l'Italia non brilla, 2-1 al Venezuela davanti a Sinner, la difesa sbanda e Gigio para un calcio di rigore. Nel finale segna ancora Retegui, domenica a testa New York contro l'Equador, nel frattempo si sono giocate le semifinali dei play-off per accedere ai campionati europei, la Georgia di Kvaraschele in finale, adesso sfiderà la Grecia. Anche sul Corriere dello Sport c'è con Miners, passi avanti, servono 45 milioni per l'acquisto del centrocampista che ha chiesto l'accessione all'Atalanta, dall'Atalanta, no ha chiesto all'Atalanta l'accessione, era giusto. Conferma, confermato l'interesse per Goretzka del Bayern Monaco che piace anche al Napoli e Calafiori, poi ci saranno insomma tutti i movimenti di mercato della Juventus per raccogliere i soldi, i soldi per comprare con Miners. Nel frattempo a Roma arriva la primavera di Ebram, De Rossi ritrova finalmente l'attaccante, era fuori da nove mesi, si fermano a Sbun e Baldanzi per problemi muscolari. E poi c'è la Fiorentina, Fiorentina che è ritornata al lavoro dopo una settimana tremenda con quello che è accaduto con la scomparsa di Gio Barone e il cerchio viola che emoziona Firenze. La Fiorentina ripartita dal ricordo di Barone, questa è la prima pagina del Corriere dello Sport. Anche su Tutto Sport praticamente troviamo le stesse cose anche nella stessa disposizione perché c'è Retegui che è l'unica luce dell'Italia, c'è Comminers che chiama la Juventus il mostro a Cerbi e poi c'è il Milan. Eccolo qua, Milan sacrifica Mignan, il portiere è sul mercato. Questo è l'interrogativo di Tutto Sport che come sempre va a scrufuliare a casa degli altri. Il quotidiano sportivo titola poco azzurro ma Retegui c'è, doppietta del bomber. L'Italia batte 2-1 il Venezuela. E allora andiamo a vedere alcuni approfondimenti per capire bene che cosa è accaduto ieri sera, non molto a dire il vero al di là della doppietta dell'attaccante del Genoa. L'Italia riparte da Retegui, doppietta di Matteo. Quanti errori è il gioco? L'Atita. Spalletti parte con tre difensori e fatica, poi cambia, ritorna all'amato 4-3-3 e per gli azzurri. Gli azzurri mostrano più personalità. Scrive Fabio Licari, non è detto che dall'America torni in Italia. Born in the USA. Quella vecchia potrebbe ancora essere meglio. Ma abbiamo un centravanti, Retegui, due palloni buoni e due gol. Come ai tempi di Mancini. Vinciamo 2-1 un amichevole anche divertente con Donnarumma che parla. Un rigore dopo tre minuti e tanta sofferenza per almeno un tempo quando un nuovo sistema tattico, la difesa 3, declinato forse con un po' di approssimazione, ci mette sempre in inferiorità e ci espone alle ripartenze. Questo è la sintesi della partita di ieri. Quella di ieri che è stata la prima partita ufficiale tra Italia e Venezuela. Invece contro l'Equador. I precedenti sono due. Il 2-0 ai gironi del campionato del mondo del 2002 in Corea e poi l'1-1 in amichevole l'11 giugno del 2005 proprio a New York con gol di Luca Toni. Questo è quello che è accaduto ieri per un'Italia alla quale Spalletti chiede di più. Ho scelto la difesa 3 più vicina al campionato ma dobbiamo fare meglio. Retegui, bravo in tutto. È stata una partita dura, dice l'attaccante del Genoa. Posso crescere ancora. Oggi ci gioca tra l'altro un amichevole al Tardini di Parma tra l'Albania e il Cile e ci interessa in un certo senso perché è la prima avversaria che affronteremo ai campionati europei di Germania 2024 il 15 di giugno. Oggi al Tardini alle 20.40 la sfida appunto tra Albania e Cile. È stato un giovedì di dispareggi per quel che riguarda i playoff per andare ai campionati europei e allora vediamo un po' di risultati. Cominciamo intanto dal largo successo, larghissimo successo per 5-1 della Polonia con l'Estonia. Polonia boom, regna Zilinski, il napoletano firma, Zalewski gole assist e ora si va in Galles. Troppo debole l'Estonia che becca un rosso dopo 27 minuti. Bene, Zilinski e Romano, Lewandowski però non segna. Altri risultati? Tris di Gudmusson, la Georgia è ok pure senza Kvaraskelia. Dunque abbiamo il 5-1 della Polonia sull'Estonia e poi il 4-1 del Galles sulla Finlandia, il 4-1 dell'Islanda su Israele, il 2-1 dell'Ucraina sul campo della Bosnia, 5-0 tra Grecia e Kazakistan e 2-0 della Georgia con il Lussemburgo. Il tabellone delle finali è il seguente. Galles-Polonia si giocherà il 26 marzo, casa del Galles lo stesso giorno, Ucraina-Islanda ovviamente in campo neutro e poi lo stesso giorno anche Georgia-Grecia per andare a inserirsi nei tabelloni diciamo dove manca la terza squadra ovvero il gruppo D, il gruppo E e il gruppo F. Questo è per quello che riguarda il campionato europeo. Poi c'è una notizia così di costume più che altro che arriva dalla Germania e che non riguarda la loro seconda maglia. Ve la lascio scoprire da soli copioni che non siete altro tedeschi. Germania che storia! Guardate cosa succede addio all'Adidas dei grandi trionfi. Dal 2027 i tedeschi vestiranno Nike. L'Adidas fu fondata nel 1949 da Adidasler ovvero Adolf. Il fratello Rudolf creava invece la Ruda, oggi è diventata la Puma e qui insomma ci sono le altre squadre che hanno cambiato, che sono con Adidas o che sono uscite da Adidas. Eccolo qui vedete la storia di un marchio insomma di un marchio importante per quel che riguarda il calcio mondiale. Veniamo un attimo alle cose di casa nostra. Detto di Combiners che vuole andare via e la Juventus che vuole prenderlo, veniamo a noi e veniamo al rafforzamento di un legame. Ne abbiamo parlato in questi giorni, c'è un mio video dell'altro ieri, Pioli si rafforza. Posto Champions ormai a un passo, il Milan chiede un grande derby. La priorità del club era stare tra le prime quattro. Per il tecnico crescono le chance di conferma, però ora serve il riscatto contro l'Inter. Secondo i giornali la programmazione si fa sulla base della partita. Tutto questo è meraviglioso e ci sta anche un applauso per i giornali e i quotidiani che veramente sono strepitosi. Scrive Alessandro Gozzini, da qui che il Milan ripartirà, cioè risultati eccetera eccetera, per le valutazioni finali. E poi decidere promossi e bocciati. L'obiettivo di inizio stagione è stato di fatto centrato senza fatica, dunque voti alti. Capito? Cioè l'obiettivo di inizio stagione era il quarto posto, amico mio che non ci credevi. E invece è proprio così. I rossoneri hanno 11 punti di vantaggio e bla bla bla. La conquista della Champions è l'argomento più pesante per tenere ferma la panchina di Pioli per l'incasso milionario che garantisce per la visibilità internazionale che porta, fondamentali per un club che vuole autosostenersi. Te capii? Bene, grazie a tutti. Siamo arrivati alla fine di questa rassegna stampa, finale col botto, appuntamento alle 13 in diretta con Friday Me Live e con Vincenzo. Parleremo anche di questa cosa, poi naturalmente parleremo anche un po' di nazionale. Ci vediamo alle 13, mettete un like al video, iscrivetevi al canale. Grazie e buon venerdì. Grazie a tutti.